E' stato un momento epico come l'ho vissuto ieri, 27 giugno 2021, a Domenica Inn, condotto da Maravine. Infatti pensate che è entrata all'interno dello studio, diciamo così, la sorellina, la sorella serieta di Maravine. Maretta, così può essere definita. Si tratta proprio di Vincenzo di Lucia, l'invitatore di Maravine, che si trasforma proprio nei panni di Maravine, quindi imita direttamente Mara nella puntata di ieri, 27 giugno 2021. A portare in studio è stato il simpatico Cristiano Maggiore, il famoso cantante siciliano per eccellenza, che proprio all'interno dello studio fa libero sfuggio, o meglio pone proprio Maretta, o meglio Vincenzo di Lucia, il famoso imitatore di Deo per eccellenza, all'interno dello studio proponendo un separato dello divertente, infatti la falsa Maravine si diverte a imitare, cioè si diverte a cararsi nei cuori di provo del panno, nei panni proprio di Maravine. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al canale e al dato che vediamo, commentate, un saluto per al prossimo video.